su questo progetto in Europa per sostenersi? Io penso che sia una fase molto affascinante di questo percorso, se ne è parlato tanto, a volte a proposito, a volte a scroposito, con toni pacati, non pacati, ma io credo che sia, se si arriva a questo referendum, credo che possa essere un momento straordinario però come c'è una riflessione concreta nel quale coinvolgere tutta la popolazione del Veneto, perché io penso che ci siano dei temi, soprattutto quando sono così di fondo, sui quali, come dice Ann Arendt, non si possono lasciare soltanto i scienziati di professione o i politici di professione a ragionare. Ma...